70.000 euro è questa la cifra che Banca Anton Veneta sarà costretta a versare a titolo di risarcimento ad una società di Bari per aver commesso numerose violazioni sui conti correnti. La sentenza emessa dal Tribunale di Bari è stata resa nota dall'Adusbef, l'associazione a tutela dei consumatori che opera nell'ambito dei settori bancario, finanziario, assicurativo e postale. L'accusa per l'istituto di credito di recente assorbito in Monti dei Paschi di Siena è di anatocismo bancario con riferimento all'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittima applicazione delle commissioni in massimo scoperto e la mancata pattuizione del tasso degli interessi passivi. Un reato per il quale la banca è stata condannata a restituire all'azienda la somma di oltre 58.000 euro con la maggiorazione di interessi per oltre 12.000 euro. La vicenda processuale ha avuto inizio nel 2005 quando la società ha deciso di far verificare al Tribunale del Capoluogo il corretto comportamento dell'istituto di credito e si è conclusa, dopo oltre 10 anni, con la sentenza emessa dal giudice Rosanna Angarano che ha riconosciuto le violazioni dando ragione all'azienda.